Ciao Carlo, grazie della tua sempre straordinaria disponibilità anche per film che sono molto datati, stiamo parlando di un film del 1982 che è In viaggio con papà. Grazie a voi perché insomma in qualche modo sentirete qualche testimonianza su come è nato quel film. Esatto, è quello che vorremmo sapere, tu hai vinto direi che quasi tutti i tuoi film, forse il 95% dei tuoi film ha avuto nomination, ha avuto premi, Biglietti d'oro, Chuck d'oro, Nastri d'argento, Davide di Donatello, l'ultimo per la tua interpretazione nella grande bellezza, quindi sei proprio reduce da un ultimo di tutti i tuoi premi, stiamo parlando di un film che in realtà non ha avuto premi, è un film che ha avuto un filo di critica negativa, dai critici naturalmente, e invece ha avuto un grande successo di pubblico, perché il pubblico ha premiato il film. Stiamo parlando di In viaggio con papà, per la regia di Sordi, con Sordi e Carlo Verdone interpreti, e per la prima volta. Dove vi siete incontrati? Come è nato questo progetto? Beh, io, innanzitutto tutti sanno che io sono nato in lungotevere dei vallati, però la mia camera da letto dava in via delle zoccolette, di fronte il destino ci ha messo alla stanza di Alberto Sordi, quindi la mia camera da letto dava sulla camera da letto di Alberto Sordi, Già questa è una cosa molto strana del destino, cioè evocava già un qualcosa, perché Roma è tanto grande, è possibile che questo grande attore venisse ad abitare con la sua camera da letto di fronte alla mia camera da letto? Eh, un presagio in qualche modo. Allora, fermo restando che io non sapevo nemmeno se ero adatto a fare il cinema, e neanche ero convinto se avessi potuto fare l'attore. Lo facevo bene a livello universitario, me la cavavo molto bene, ricevevo già delle critiche positive da quei giornalisti che venivano, critici di teatro, che venivano a vederci le nostre opere universitarie. Però francamente io mi stavo laureando in storia delle religioni, laurea che poi ho cambiato perché ho fatto il centro sperimentale di cinematografia e ho dovuto cambiare poi la tesi di laurea perché insomma due anni è durato il centro sperimentale per il diploma di regia sotto Roberto Rossellini, quindi la laurea diventò un'altra cosa. Io non immaginavo minimamente. Vabbè, è capitato tutto quello che è capitato, televisione con uno stop e poi questa fortuna di aver incontrato un grande uomo, un grande produttore, un grande regista, Sergio Leone, che mi ha fatto fare un sacco bello. Come attore e regista insieme e sceleggiatore, dicendomi se vuoi andare avanti te li devi scrivere, te li devi dirigere, te li devi interpretare. Fidati e io mi sono fidato. Dopo un sacco bello, che ebbe un grande successo, sapevo che molti attori veterani, quelli della grande commedia italiana, che non ci sono più, insomma in qualche modo si interrogavano. Era venuto fuori Nanni Moretti con, prima io sono un autartico, poi Eccebombo, quindi poi Nichetti inizialmente, insomma si sentiva che c'era una nuova aria con dei nuovi interpreti che venivano fuori. Di lì a poco sarebbe venuto fuori anche Massimo Trovisi con Ricomincio da Tre. Allora ci mi ricordo che mi invitavano, dopo il successo un sacco bello, io ricevevo molti inviti a pranzo, da parte di Gasman, inviti a cena da Ugo Tognazzi. Tutti volevano capire chi fossi, evidentemente avevano qualche idea, cioè quando arriva il momento che sei molto anziano, la tua ciambella di salvataggio è aggrapparti a un giovane e percorrere il film insieme al giovane perlomeno, ti mantieni a galla. Insomma, però parliamo di grandi attori, ovviamente. L'unico che non si era fatto vivo era Sordi. Capitò che quando io feci Bianco, Rosso e Verdone, Sergio Leone non era affatto sicuro del film, proprio non lo era per niente. Secondo lui, sbagliandosi, l'episodio più debole era quello di Magda, tu mi adori, lo vedi che la cosa è reciproca? Magda, 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 Magda. Hai fatto quello, hai chiuso quello, hai chiuso quell'altro. Leone ogni volta che vedeva quel personaggio diceva, io vorrei prendere una sega e segargli la testa, perché il pubblico si incazzerà, perché non lo sopporta quello, che personaggio hai fatto, non fa ride, fa venire solo esaurimento nervoso. Quindi mi mise un'angoscia prima dell'uscita di quel film, che era una cosa incredibile. Allora fece una proiezione, pilota, a casa sua, prima copia, se la fece mandare a casa. Quella sera c'era la sua famiglia, poi c'era Alberto Sordi, Monica Vitti e Falcao, il numero 5 della Roma. Io rimasi molto colpito, dissi, ma che cavolo c'entra Falcao, che cosa comprenderà di questo film? Tant'è che io andai da lui e dissi, mi dispiace, sa, un po' in dialetto, un po'. No, 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 tu bravo con mimica, noi brasiliani non siamo bravi. Parte la proiezione, Sordi mi abbraccia, mi saluta. L'avevo conosciuto qualche settimana prima a casa di mio cognato, di Cristian De Sica e di mia sorella, dove era stato molto affettuoso. Io, da grande fan, mi ero portato una fotografia e dissi, Alberto, posso avere un autografo con dedica? Per uno che inizia è una grande benedizione. Lui fu molto carino, disse, dammi una penna. E ci scrisse, a Carlo, con tutto, si fermò, schrisse, il mio paterno sottolineato affetto. Io, quando lessi paterno, scappasse prima o poi un film che lui è il padre e io sono il figlio. Vabbè, chiusa parentesi. Parte il film, parte la proiezione, dietro di me c'era Sergio Leone. Ogni volta che entrava in campo, il marito faceva, io tant'è che mi voltavo e dicevo, eh, Sergio, basta, per favore, basta, sta surgazzo. E lo so, basta. Era, 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 era un continuo, era un continuo la cosa. Però sentivo che Sordi e la vitti ridevano tanto. Fine del film. Alla fine del film ci furono gli applausi di Monica, di Roberto Russo, che aveva accompagnato la vitti, di Sordi, di mia moglie Gianna. Eh, pochi applausi perché erano poche persone. Si è accesso le luci e questo me lo ricordo, la vittima mi disse, bravo, bravo. E Sordi venne verso di me, ma abbracciò e mi disse, che cos'è quel marito? Che cos'è quel marito? Ma tu sei bravo. E mi riempì di baci. A quel punto con l'occhio guardai Sergio Leone, hai sentito che ha detto, che cos'è quel marito? Leone. Ce l'ha sempre un ticca di fare così. Ma davvero Alberto è piaciuto quel marito? Ammazza. Continuava ad avere delle perplessità nonostante la vitti e Sordi gli diceva, no, guarda che questo marito è fantastico. Ma vabbè, ci lasciamo con una grande, con la promessa di rincontrarci un giorno. Però io tornei soddisfatto a casa, mi sembrava sincero Sordi, mi sembrava sincero la vitti. Un giorno Sergio Leone mi invita a pranzo, non ricordo dopo quanto tempo. Un pranzo strano, che mi voleva di niente. Non mi sa mangiare una cosa. Dico a me. Entriamo in un ristorante. E a un certo punto ordiniamo i primi, mi guarda, fissano gli occhi seri e mi fanno. Ma se io ti monto un film con Sordi, quanto chiedi? E' battuta che si fanno, io te lo faccio pure gratis. No, gratis no. Quanto chiederesti? Niente. Il minimo sindacale. Allora gli chiesi, meno della metà, della metà di quello che avevo preso nei miei precedenti. Io dissi, ma io con 20 milioni un film Alberto Sordi a occhi chiusi. Cammeriere, portami un pezzo di carta. Portami un tovagliolo. E' una penna. Allora portò una salvietta, tovagliolo. E mi disse, scrivi, io Carlo Verdone. Io ti dissi, ma che sto scherzando? Scrivi, io Carlo Verdone. Io Carlo Verdone. Nato a Roma. In relazione, in relazione. Tutto scritto su un tovagliolo. Questa è una storia vera. Questa follia è una storia vera. In relazione alla proposta del signor Sergio Leone di realizzare un film con Alberto Sordi probabilmente la storia di un padre e un figlio accetto l'esclusiva di Sergio Leone cosa, la Rafran Film si chiamava eccetera per la cifra di lire 20 milioni scrivilo pure, mi disse, scrivilo pure a lettere 20 milioni, mettici la firma. Quella che non stava a scherzare fece. Mi ha messo la firma. Lui prese, fece così. E adesso sei mio. E prese il tovagliolo solo mi sento la schia. Dico, ma che significa? E adesso sei mio. Adesso ce lavoro io. Siccome cominciavo a capire che la cosa era un po' seria dissi, ma quale cifra è venuta così? So, quelle cifre che uno dice... Pentito di averlo detto. Ma certo, pentito sì. Ma pentito è un cavolo. Dopo una settimana telefonate di Sergio Leone. Dobbiamo andare con Sordi, però andremo prima noi a parlare con Goffredo Lombardo. Ma per che cosa? Scusa, non hai firmato un contratto con me. Perché Leone lo controfirmò. Cioè, siamo andati all'incontro con Goffredo Lombardo per parlare di questo ipotetico film con Sordi. Ma io non avevo parlato ancora con Sordi. Ho parlato solo con Sergio Leone. Di un ipotetico film padre e figlio. Sergio Leone si presentò a Lombardo e disse Allora, io ti porto Carlo Verdone per questo... Quindi, per dire, ti aveva venduto quella cosa. E tirò fuori, dice, c'ho anche il contratto. E tirò fuori questo misero tovagliolo di un ristorante che si chiamava... La... Sta in Prati, mi ricordo come si chiamava, porca miseria. Vabbè, la Dominicana, non mi ricordo. Vabbè, insomma, stende sto coso e Goffredo Lombardo, schifato, guarda questo tovagliolo e fa... Ma questo è un contratto, secondo te. Questo è un contratto a tutte le cose. C'ha la firma sua e la firma mia. Quindi era vero. Io guardo il Lombardo e dissi... Quello sguardo feci. Come dire, non dia retta qua la cifra. Allora, Lombardo saggiamente guardò Leone e disse... Vabbè, ma avete la storia. C'è una storia, non ci sta la storia. La storia non sapevo manco che era. Dice, qua si parla di un padre e un figlio. Volevo parlare adesso con l'Alberto Falleone per cercare di organizzare questa storia ipotetica di un padre e un figlio perché ci rivedo bene, il pubblico li aspetta. L'avvento di Carlo, la fama di Alberto. Dice, vedrò a pranzo sordi senza Carlo e poi ritorneremo il pomeriggio insieme. Sì, lui disse, fatemi capire bene com'è. La cosa mi interessa ma la vedo ancora un po' nebulosa. uscimmo. Io dissi a Sergio, ma chi hai dato il contratto mio nel Tavaiola con Fido Lombardo? Quello è in contratto, mi fa. Ma come è in contratto? Quello è uno scherzo, eh. Ma che fai? Ma te li mangio le parole? No, no, non mi li mangio ogni altro. Vuoi far film con sordi o no? No, sì, allora basta, quello è incontrato. Ma andai a casa, in balia degli eventi. E che cosa è successo? Successe che sordi incontrò realmente Leone a pranzo e andarono il pomeriggio a discutere ulteriormente con Fido Lombardo. Allora finì che dopo tre giorni andammo a pranzo, io sordi, Leone, questo giovane produttore che si stava facendo largo in quel periodo che era Augusto Caminito e un organizzatore generale che era Jacobis, che era un organizzatore che conosceva bene Sordi, conosceva bene Goffredo Lombardo, quindi probabilmente il film stava prendendo forma e Sordi là mi comunicò che stava pensando insieme a Rodolfo Sonico che avrei incontrato di lì a pochi giorni, insieme a lui, a un'idea che comprendeva un padre e un figlio. Io non ho mai capito se l'idea del padre e del figlio è di Sergio Leone che l'ha suggerita a Sordi oppure è di Sordi e Sonego, non lo so. Questo francamente resterà un mistero perché in quel contratto scritto sul tovagliolo del ristorante c'era scritto un ipotetico film nel ruolo del figlio e Sordi padre, quindi chi lo sa, o ne avevano parlato loro prima, ma non credo, insomma io credo che Leone abbia fatto un lavoro sotterraneo molto, molto, molto grosso. Ha detto che ti aveva scritto Sordi, poteva lasciar presagire. Assolutamente, c'era anche la fotografia condedica, il mio paterno affetto, quindi chissà se Sordi ne parlò con Leone o Leone con Sordi, questo francamente io non l'ho mai saputo, non l'ho mai chiesto. Si cominciò a lavorare con quello, però io dissi a Sordi, dico Alberto io devo sceneggiare con voi perché se no, 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 ci mancherebbe altro, dico, perché se no, se no mi scrivo io le battute è un po' complicato, ho iniziato così, no, 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 mi ricordo che le sedute di sceneggiatura, una era fissa, la domenica mattina che era una tragedia, ai 10, perché Sordi andava a messa alle 8, dalle Mona che era là nel convento a casa sua e poi era libero e veniva ai 10 da Sonaco, caffè, tu chiacchiere e se parlava in libertà e la povera moglie de Sonaco, Allegra, scriveva tutto a mano gli appunti che tutte le cazzate che dicevano, perché sai prima devi dire una cosa giusta, dici 6.000 fregnacce prima e se facesse questo e se successe questo, e la parola Allegra scriveva sempre che era una grande traduttrice del russo in italiano, una donna sovietica sembrava, nemmeno in italiano, ma era meravigliosa cosa era, lei scriveva. Piano piano prese corpo questo soggetto che aveva come titolo un padre e un figlio, poi un bel giorno, una domenica mattina, noi lavoravamo anche il pomeriggio dei feriali eh, due, due tre non di più. Una domenica mattina a Sordi se ne uscì e disse c'è il titolo, in viaggio con papà. Io dissi, bello, te piace? Dico, eh beh, molto commerciale, eh però funziona, io te in viaggio, le avventure, le cose, tutto quello che ci succede. E da là iniziamo a scrivere questo film. E fu molto lunga la scrittura perché andavano lentissimi e Sordi lasciò molto spazio a Sonago che scrisse parecchi dialoghi, ci furono anche delle cose assolutamente inventate da Sonago e molto poco da Sordi. Sordi non inventava la situazione, il Sordi interveniva per mettersi a posto i dialoghi. In realtà quello che eh creava la struttura era, era Sonago. Io diedi due, tre, quattro idee che furono accolte, eh, fui contento di questo, però come spesso succede eh, con i film e nei comici, le grandi risate, eh, il pubblico, le grandi risate, il pubblico se le è fatte con delle scene che erano, venivano, venivano, venivano provate e magari durante la prova scappava fuori una cosa, beh, se io dicessi questo e Sordi ci aggiungeva un'altra cosa. Le grandi risate di quel film non erano nel copione, erano, avvenivano durante le prove. Ecco, quindi se uno prende il copione che torna poco, ecco, le cose ci sono, però poi ci sono delle battute, delle situazioni vanno avanti, eh, ma quelle sono inventate al momento. Io credo che… era un'operazione che in qualche modo Sordi sentiva di fare, per me era un… era qualcosa di molto importante, perché Sordi per me è sempre stato uno degli attori eh, cardine del… del mio interesse cinematografico. Quindi io l'ho talmente amato nei primi film in bianco e nero che fece, anche nei primi film di Fellini, Lo scicco bianco, i vitelloni, dove secondo me Fellini ha capito tutto di Sordi in quei due film, tutto. La follia e la cialteroneria, tutto, ha capito tutto. Io glielo dicevo, Sordi si arrabbiava, perché non… li vuole essere ricordato per Fumo de Londra, ma in realtà io me lo ricordavo per tutti a casa, per la vita difficile, per i vitelloni, a me quello era il Sordi che mi piaceva. Fumo de Londra era un buon film per quell'epoca, l'unico secondo me veramente buono che fece come regia. la critica fu molto… fu molto severa con quel film e li riesco a capire, capisco i critici che l'hanno… che hanno avuto qualche perplessità. C'erano delle situazioni che non c'era bisogno di spiegarle, si potevano fare con poco. In realtà lui pensava che spiegando le cose a voce, poteva affrettare la velocità del racconto in qualche modo. Questo era un modo che poteva andare avanti bene due o tre volte, ma a un certo punto il film era molto, molto verboso, molto logoroico. Tant'è che io cercai anche di farglielo presente, però non c'era niente da fare. Quando lui si metteva in testa una cosa era quella. Io feci un… ho fatto il soldato con sordi mettendoci anche delle cose mie. No ma una donna, 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 quella è roba mia, il gabbiano è roba mia. Eh vabbè, tutte le cose… molte sono sue, alcune cose sono mie. Non sta che partiamo io e la figlia dell'ingegnere, ma appena arrivati a Piacenza ci prendo una nebbia, ma sai di quelle nebbie fitte, fitte, fitte che siamo costretti a fermarci. Che avresti fatto tu? Io avrei dormito nel saccappello dentro la macchina, poche volte mi è capitato. Tu, siccome papà col saccappello non ci ha mai dormito e gli piacciono le comodità, ha preso la ragazza e l'ha portata in un bellissimo albergo e io ho chiesto due camere. Una per te e l'altra parte adesso l'ingegnere. Bravo, io e la figlia dell'ingegnere. Solo che il portiere mi dice, mi dispiace ma l'albergo è tutto esaurito. Ci abbiamo una camera solo a due letti. Che avresti fatto tu? Io avrei scaricato una camera a due letti e sarei andata a dormire il saccappello. Aniragli con sto saccappello. No, è stata lei a togliermi l'imbarazzo, mi ha detto ok, va benissimo. Capirà? La ragazza moderna dice, dormiamo in camera insieme. Beh, come fanno noi là con tutti i ragazzi col professore, no? Si entra in una tenda, no ma una donna, 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 basta, sta a sentire. Però io credo che il pubblico in quel momento voleva vedere questo scontro generazionale, no? Sordi che rappresentava in qualche modo la grande commedia classica romana con un giovane attore nato a Roma che si stava facendo le ossa e stava venendo fuori. Volevo chiederti Carlo, in realtà padre e figlio totalmente diversi, in contrasto totale, come avete vissuto questo sul set? Cioè era solo nel film o vi contrastavate un po' anche, come dire, mentre non giravate nel confronto tra di voi? No, siamo andati, nel film eravamo veramente, andavamo non d'accordo di più, lui mi voleva veramente bene, un uomo che mi ha voluto veramente bene e io gli ho ricambiato il bene e anche il rispetto perché lo rispettavo molto, anche quando magari certe scene non le capivo bene, una volta contestai un po' una scena e me la presi con lo sceneggiatore e dico ma che cazzo ho scritto qua, troppo! E lui mi disse ma l'ho scritta io questa. Mi dico beh scusami, mi devi scusare, però ci rimase un po' male. Dico però si può, là mi buttò la penna, allora stringi la testa Frasi, stringi la testa, sto copiando questa scena. E io andavo là, dico secondo me se mi permetti, ma dai fallo, fallo, fallo. Io toglierei questo, questo, questo. Alla fine da una cosa così diventò una cosa così. Lui disse, beh mi hai tolto undici righe, ma vaffanculo, e li disse undici righe. No, andammo sempre d'accordo, tranne tre volte. Una volta litighammo, ci fu una lite tra me e sordi, però fu troppo cattivo. Allora successe questo, che io dovevo fare una nuotata in mare aperto, perché gli serviva come aggancio di io che mi butto da una barca dove mi stanno prendendo in giro delle ragazze e con il nuoto vado verso la spiaggia. Adesso comunque fate una bella cortesia, perché ho già capitato l'andazzo dalla serata. Adesso rivoltate la brua e mi riportate immediatamente a te la. Va bene? Va bene. Se a te non vi muovete ce vado io. Uno. Uno. Dai su. Due. Due. Due e mezzo. Due e mezzo. Due e tre e quattro. Tre. Arrivederci e grazie. Ma no dai! Non scassate! Non scassate! Dai che mi piace! Il tempo era lo schifo, il mare non era freddo, era gelato perché c'era stato un diluiavo da due giorni a puntata. Mi dici al bene, ma fa freddo, facciamo un'altra volta, no, non se può fare, il problema è questo, dai, dai riscaldatelo. Tutti quanti mi mettevano un po' d'olio di pesce addosso, mi buttai, io poi, dai, adesso tu vai avanti fino a quando non dico stop. Dico, dillo stop, dico, non mi ha mandato troppo là che io poi, per tornare, vai, 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 azione, più veloce, più veloce, corri, corri, più veloce, impaurito. A un certo punto mi fermo, perché te sei fermato? Ma io mi sono fermato perché mi girava la testa, perché a forza di, sai, non è che io sono preso un grande atleta. E a un certo punto vedo quel molo piccolo, piccolo, l'ho allontanato tantissimo, la fece con la mano così e quasi a chiede aiuto. Perché te sei fermato? Perché te sei fermato? Io, piano piano, a rana, incomincio a tornare là, che era pure difficile, c'era la corrente contro. Perché torni? Devi andare largo! E là mi è uscito fuori. Ma hai rotto il cazzo! A quel punto ho visto che si sono tutti vetrificati, perché vedevo gli assistenti che nessuno, guardavano tutti i sordi, mi diceva, mo' che fa? Uno ha detto a sordi, ma hai rotto il cazzo. Cioè, veramente, allora, vedi che i sordi si è messe il giubbotto e si è andato via. Piano piano smontarono le macchine. Io fui lasciato praticamente solo. Cioè, vedevo che per ordine di sordi tutti si erano andati via. Io arrivai a Romolo, Porello, la sarta da lontano, la costumista, mi disse, c'ho a Cappadoio, se no se prende freddo, venga. Dico, ma gli altri? Sono andati via, sono offeso, sordi. Dico, sono offeso, dico, ma me sta per far morire. Dico, io non ce la facevo più. Dico, ma guardami la pelle, ero viola, ero freddo le cose. Allora, io tornai in albergo. In genere lui mi lasciava sempre un bigliettino al consierge. Stasera cena o a quel ristorante o in albergo e cose. Lui dettava sempre le cose. Qua la sera non c'erano bigliettini. Io rimasi in camera, anche perché quel freddo alla pancia mi diede anche un po' dei disturbi intestinali. Era una cosa gelata il mare. Allora, a certo punto chiesi un termometro. Il termometro riportava, mi ricordo, poche linee di febbre, 37,2, 37,3. Allora chiamai l'organizzatore e dissi, guarda che io non sto bene di stomaco. Questo è il termometro, se vuoi me lo rimetto qua. Io ho 37,2, 37,3. Speriamo che do meglio non avere febbre perché se no io non giro, va bene? Perché Sordi non è stato carino con me. Non si fanno quelle cose. Che tu mandi uno a mare aperto così. Ma tu pure gli hai detto che mi hai rotto il cazzo. Sì, e io lo ridico pure se lo li vedo. Non si fa così. Allora Sordi aveva chiesto notizie. Che c'ha? Che fa? E gli hanno detto, guarda che c'ha qualche po' di febbre. Allora alle 11 e mezzo sentì la porta. Chi è? Alberto. Con una voce già più... Io ho aperto. La prima cosa che fece fu questa. Che vuol dire sta carezza? Mi disse io. Fammo pace. Fammo pace. Dico, ma io non ce l'ho con te. Però scusa, ti chiedo scusa anche di quella parolaccia che mi è venuta. Che fra l'altro esiste. C'è un fonico che mi ha detto che c'è ancora... Mi hai rotto il cazzo. Ancora... Ancora registrato. Dice che se lo vuoi ottenere per fare un grande scoop. Speriamo che non esca mai. Comunque i miei rapporti furono ottimi. Ci fu un'altra... Ci fu però un episodio che secondo me fece capire bene chi era veramente sordi. Cioè la sua moralità, il suo bigottismo, la sua... Cioè la scena è questa. Avevamo girato e stavamo tornando in albergo a Puntala. A un certo punto, vicino al nostro albergo a Puntala, c'era un residence dove ci andavano soltanto scandinavi. Si vede che c'era una convenzione per gli scambini. E se scandinavi... Stava di scambino. Scandinavi. Arrivano con le roulotte, con le cose. Però soltanto Svezia, Olanda, Norvegia, Finlandia. Erano soltanto, capito, proprio nord-nord Europa. E quando passavi là vedevi sempre delle bellissime ragazze. Tant'è che quelle due che fanno poi... Che a un certo punto mi fa fare una figura un po' barbina, presentandomi due svedesine, due tedeschine. Erano due ragazze acchiappate da sordi, per strada, mentre entravano nel camping. Erano due svedesi, in realtà. E a un certo punto a me mi uscì fuori. Allora c'era... Da dietro la macchina avanzava. C'era una che aveva un corpo meraviglioso. Bionda. Un corpo fantastico. In bikini. Delle gambe perfette. E una culona grossa, così, con i capelli biondi, che era la madre. Per forza una parente, perché non era neanche giovane. Si vedeva che era un po' su con l'età. Io mi riuscì con questa frase. Arbe, lui, senti ma per due milioni, anziché quella di sinistra, ti faresti quella a destra? Che era la madre, no? Silenzio. Arbe, Alberto, se ti adessero, manco a dire, ti ripetetti a fare, lui fece così. Non ti azzardare a dire mai più queste cose nei miei confronti. Arbe, non mi piacciono queste domande. Ma serio, eh? Io rimasi mortificato. Ho capito che si poteva scherzare con tutto, con sordi, tranne cose intime riguardante il sesso, riguardanti... No, quelle non si potevano nella maniera più assoluta toccare. A quel punto, stai tizzitto, mi fece così col dito, non ti azzardare mai più. E non era uno scherzo, perché poi ritornò normale e mi fece capire che non ci dovevo più provare a fare domande così. Ecco là, questo racconto, secondo me, è proprio tradice lunga su quanto era un ayatollah cattolico, per certi versi. Un ayatollah cattolico, che è una cosa assurda. Cioè, un cattolico estremista. Ma lo era veramente fino in fondo, lui? Per me assolutamente sì. Assolutamente sì, lo era. Ma infatti mi viene in mente, adesso, anche sulla scorta di quello che stai dicendo, in realtà potrebbe essere, per esempio, l'esigenza sua di portare in viaggio un padre e un figlio, magari se l'idea è stata sua, rispetto a quello che è stato il suo rapporto con il padre, per cercare di portare alla conoscenza del vasto pubblico italiano, e non che avrebbe visto il film, la possibilità di approfondire un rapporto, padre e il figlio, pur così diversi, attraverso un viaggio. Cioè, una conoscenza, un approfondimento, un insegnamento. Forse, probabilmente, forse, non è da escludere. Anche perché Sordi, diciamo la verità, è nato in un matercato. Sordi è nato in un matercato. Il padre poco si occupava, ma era molto severo, con i figli, però era sommerso dalla madre, dalle tre sorelle e da sto fratello, che era un po' così, era abbastanza creativo, folle, birichino, eccetera. Ma ste sorelle, però, si facevano sentire con lui. Sordi era un diavoletto, era un diavolo da ragazzino. Però, di fronte alle sorelle che gli facevano, lui si metteva buono. Quindi lui è nato in un matercato. Quindi è possibile questa ipotesi. È tutto molto possibile. Visitando la sua casa, a Roma, perché ho fatto un documentario con mio fratello, che si chiama Alberto il Grande, e ho capito che questa... Io ho cercato di... Ho cercato in quella casa di trovare qualche fotografia di qualche artista che avesse lavorato con lui. Non ho trovato niente. Non aveva nessuna fotografia. C'era soltanto una fotografia di un artista, che poi non era un artista. Lui è diventata dopo. Soraya. Ecco. Quella che sarebbe dovuto diventare l'imperatrice della Persia, Soraya, poi prestata al cinema, aveva scritto una bella dedica ad Alberto, due righe, così... E lui aveva questa fotografia in bianco e nero di Soraya. Ma a parte Soraya, che avrebbe potuto avere David Niven, Tognazzi, Casma, tutti, tutti... Nessuna fotografia di colleghi, registri, sceneggiatori. Nessuna. Solo fotografie della famiglia. Ma la famiglia dei sordi che era? Lui e le sorelle. Le sorelle e lui. Lui e Savina. Lui e Aurelia. Lui e quella... Alla fine era solo lui e le sorelle. Poi nel bagno c'era una fotografia di due uomini, ma poi veramente si è quella prima fotografia dell'ultima dell'Ottocento, no? Proprio... Che le capisci che sono proprio di antiquariato. Ecco, quei due c'erano i genitori. Io sono sempre dell'idea che non bisogna mai scavare nel privato degli attori che ami. Non ci scavare. Prenditi l'attore per quello che ti dà. Non andare a vedere che cosa c'era, le cose. Lascialo a quelli che vogliono fare i libri, le cose. Ma lo spettatore deve prendere quello che dà l'artista. Questa casa è piena di luce. Entra luce da tutte le parti. Quindi è il contrario di dove viveva, no? Sordi. Sì, è diversa. Ma più che altro è una casa piena di passioni. A differenza sua che non c'era neanche una fotografia. Io invece... Qua c'è tutte le mie passioni musicali. Però vedi c'è anche Alberto Sordi. C'è Troisi. C'è David Lynch. C'è Lou Reed. C'è David Silvia. C'è Crosby Steele. David Crosby, Graham Nash. Stephen Steele. Jeff Beck. Joe Bonamassa. Chi c'è? Fellini. Mary Strieppe. Kurosawa. Chi è questo? Ah, Hopper. Dennis Hopper. La Pete Townsend. Ho una curiosità. Che fine ha fatto Goffredo Lombardo in questa vicenda? Cioè siete andati da Goffredo Lombardo, poi è arrivato Caminito. Chi è il produttore del film? Il produttore del film? Chi è stato? Quello che ci ha messo veramente i soldi secondo me è stato Goffredo Lombardo. Gli altri hanno fatto i produttori esecutivi. D'accordo? Noi abbiamo anche oggi ogni tanto si dice prodotto da, però poi vai a capire ma chi ha messo i soldi? E capisci sempre che è la distribuzione che mette i soldi. Quindi sono dei produttori che diventano esecutivi in qualche modo. Cioè amministrano quello che dà la distribuzione. Il vero produttore fu Goffredo Lombardo. Sergio Leone vendette me. Poi alla fine Lombardo fu un gran signore. Mi disse, perdone non posso darle 20 milioni. Io gli ho detto, la ringrazio. Perché quel maledetto dovaio lo faceva testo per Sergio Leone. Io gli ho detto, la ringrazio. Lui mi disse, ho tipicato 4. Dico, grazie, buono. La ringrazio. E il minimo. Ecco, fu un gran signore. Lui era un signore. Quando disse, moltiplicato 4, fu un gran signore. Gli disse, grazie. Gli disse, ma li merita. Grazie. Era una persona straordinaria Goffredo Lombardo. Assolutamente. Diciamo quando San Leone. Che ci frega di Leone. Tanto loro prendono i soldi da me, disse. E dico, grazie. Però un altro film insieme lo faremo. Lo faremo, lo faremo. Infatti troppo forte lo portai a Lombardo. Ecco, io volevo arrivare a troppo forte. Perché lì succede il contrario. Sei tu il regista. Sì. Sei tu uno degli sceneggiatori, l'idea probabilmente tua, e sei tu l'interprete e porti dentro Sordi. No, non è che porto dentro Sordi. Ci siamo trovati a fare un secondo film insieme. Ma se io la devo dire tutta, io scrissi quel copione non per Alberto Sordi. Io lo scrissi per Leopoldo Trieste. Questo nessuno lo sa. In troppo forte, la parte del... E poi è diventato quell'avvocato là che Sordi vuole fare. Un po' bipolare, un po' strano, un po' completamente matto. Io l'avevo scritto per Leopoldo Trieste. Quando a un certo punto, a 15 giorni dall'inizio delle riprese, vengo chiamato, adesso non posso aspettare i dettagli, e mi viene detto, questo ruolo lo devi fare Sordi. E dico, io, è scritta la parte per Sordi. Dico, non è contemplato. E' che ci sputi sopra un film. No, non ci sputo sopra, per carità. Ma io l'ho pensato per Leopoldo Trieste. Dico, mi viene un film in un certo modo. Con Sordi viene una farsa. Facciamo la farsa, però Sordi deve fare questo film. Ma perché Sordi deve fare questo film? Io questa cosa che Sordi deve fare questo film, non l'ho mai capita. Ma hai chiesto? Eh? Hai chiesto? No, non ho chiesto. Ho immaginato. Forse era lui che voleva proprio lavorare con te. No. Era lui forse che in qualche modo doveva... Forse era il produttore, anziché Leopoldo Trieste, avrebbe avuto molto più piacere che ci fosse stato Alberto Sordi per motivi di incasso, per motivi di richiamo e tutto quanto. E forse c'erano delle cose tra loro, non lo so. Però questa entrata a gamba tesa che Sordi doveva fare quel film... Però io mi ricordo che tentai di chiamare Leopoldo Trieste per dire... Leopoldo mi dispiace le cose ma non mi risposto al telefono perché l'aveva saputo. Mi dispiacque tanto perché io capisco, Trieste e Trieste sordi e sordi, però quel film l'avevo scritto per Leopoldo Trieste. E poi fu ricambiato tutto perché il film slittò. Entrò Sonego, rientrò Leone, le cose che appoggiavano all'ingresso di sordi. E a quel punto il film ha preso un'altra fisionomia. Di grande successo comunque. Sì, fu un grande successo comunque, però non era esattamente il film che io avevo pensato. Se tu mi chiedi se sei contento di Troppo Forte, io ti dico sono contento di alcune mie performance in Troppo Forte, ma non sono contento del film perché il film l'avevo concepito in un altro modo. Non ci doveva essere sordi. Ma no perché non mi piacciono sordi, non l'avevo pensato per sordi, tutto qua. Fu un po' un mistero questo. Sai Carlo che io starei qui fino a domani perché in realtà tu racconti... Sono cose molto importanti. Io credo che sia necessaria una memoria di quello che sono state le realizzazioni dei film, il pensiero dei film. Adesso ci stai raccontando cose assolutamente inedite che probabilmente nessuno sa, ma che fa capire anche il patimento magari, no? Di un regista, di un autore quando pensa a qualcosa e poi la deve cambiare perché un produttore impone una cosa piuttosto... Una persona, un attore piuttosto che un altro, piuttosto che un indirizzo, piuttosto che un altro. Per esempio in Troppo Forte ci fu una cosa che un giorno preoccupò anche Sergio Leone. Cioè che sordi stava sempre di più facendo la voce di Oliver Hardy in Quell'Avvocato. Io non sapevo più che film stavo facendo. Non doveva essere così. Doveva essere come il personaggio cialtrono, come quei tanti cialtroni che ha fatto sordi normalmente nella vita. Non doveva essere così caricato. Ma vedere sordi con quel cappelletto, con quell'occhio così, mi prese, certe volte, non dico un... Però un moto di leggera malinconia, perché secondo me un grande attore non aveva bisogno di arrivare a fare un personaggio così gruttesco. Un grande attore fa la sua parte da cialtrone e basta. La risata deve prendere uguale se sei bravo. Non c'è bisogno di mettere il cappelletto e parlare come Oliver Hardy. Era quasi una paura di non far ridere. Io la presi così. Una paura di non far ridere e allora caricava, caricava molto. E certe volte facevo veramente molta, molta difficoltà a stare di dietro nei nostri duetti perché non doveva rispondere in quel modo. Quindi il film, secondo me, è venuto qualcosa di molto ibrido. Quando ti dico che vivi, me lo ricorderò per alcuni miei momenti. Io me lo ricordo, so, per esempio, i titoli di testa col Flipper. Quello è veramente un grande titolo di testa. L'andata via con la motocicletta, quando spacco la scopa, lo scopino della strada. Quello pure fa molto ridere. Quando c'è il mio monologo della paluta del Caimano, là pure sono quei personaggi un po' mitomani che a me venivano molto bene. Però non ricordo esattamente una grande scena da me sordi che posso dire, ah, sono contento. No, perché nonostante tutto, mi spiace dirlo, però non l'avevo pensato per lui. Ma tu l'hai amato molto sordi. Io gli ho voluto bene perché ho scoperto in sordi due cose importanti. Innanzitutto, a dispetto di quello che dice la gente, perché la gente veramente dice sempre delle che... La voce del popolo, quando incomincia a parlare, se dice, se dice, se dice, dice sempre tante cazzate. Non è vero Vox Populi, Vox Dei. Non è vero niente. Questa avarizia di sordi è una delle più grandi sciocchezze che siano mai state dette. Sordi, nel silenzio, ha fatto tanta di quella beneficenza che la gente neanche lo sa. Io lo sono venuto a sapere, privatamente, da persone che ne hanno usufruito. Sordi ha fatto veramente del bene per tanti, per tante persone. Ma tanto, ma veramente tanto. Eppure non si è mai sentito... Solo che Sordi non pagava il caffè, Sordi non pagava il cornetto, Sordi non ha pagato la birra, Sordi non ha pagato... Sordi è un tirchio. Quando venne per la prima volta a casa mia a cena, lui portò una pianta di orchidee meravigliosa che oggi è diventata enorme. Sta nel terrazzo di mia moglie, è ancora enorme, non muore mai, si espande sempre di più. Anzi, qualche figlietto è stato preso, è stato... La pianta dei sordi ancora c'è. Stiamo parlando del 1983, probabilmente. L'anno dopo, in viaggio con papà? Sì. Era uno che aveva pochi rapporti con il prossimo, lui vedeva soltanto 4-5 amici, questo gli si può... Però quello fa parte del carattere, se uno è fatto così, vi dava Piero Piccioni, Sonaco, Amidei... Perché da quando morì la sorella Savina, che era una sorella alla quale lui era molto attaccato, lui non... non fece più feste, non feste, poi insomma invitava sempre 15-20 persone, non di più, però dalla morte della sorella lui è entrato come in lutto, quindi quella casa non ha più vissuto niente e lui si è dato una regolata, grande cose fuori con la gente, in televisione, in sabato sera, nei film, però in casa regnava proprio il rigore più estremo, il rigore più estremo. Però io devo dire anche la verità, io ho sentito una persona che mi ha veramente voluto bene, ma molto. Quindi era reciproco. E io assolutamente, come mio personaggio è reciproco, io gli ho ridato tutta l'amicizia e anche sono stato un privilegiato, dai, insomma alla fine ho fatto un film con un, forse il più grande attore di commedia, italiano che abbiamo avuto insieme con Totò, secondo me è stato lui forse, perché lui era anche una maschera, io penso che Tognazzi sia stato un grandissimo attore, Gasman pure, ma stai, Sordi però era anche una maschera, quindi aveva un qualcosa in più, aveva un qualcosa in più. Quindi aver fatto due film, anche se nel secondo è entrato così, insomma aver lavorato con lui è una bellissima cosa. E continuo a rimanere nel mio ricordo. Ecco lui... Vedi la mano appoggiata come quando ti dice facciamo pace, ti disse facciamo pace. In grosso modo, in grosso modo è così, sì, sì, sì. Io non ho mai detto di essere l'erede di Sordi, non mi sono mai azzardato a dirlo e non lo dirò mai, perché non c'entro niente. Sordi ha raccontato benissimo un'epoca, io cerco di raccontare a modo mio un'altra, però i nostri caratteri sono molto differenti. Però Sordi è Sordi, insomma non ha eredi, le maschere non hanno eredi. Però anche tu racconti, racconti a modo tuo. Lasciamolo dire ai critici, lasciamolo dire al pubblico, io non lo posso dire. Carlo noi stiamo facendo una chiacchierata, sai che io non sono una giornalista, quindi non... Cioè era proprio una chiacchierata tra noi per far capire a chi vedrà il DVD, quindi il film nel DVD di In viaggio con papà, che possa sapere qualcosa in più. Ma tu sei sempre molto straordinario quando racconti le cose, sai Carlo? Cioè riesci a trasferirci quello che tu hai provato in quei momenti? Ecco perché io... Tu non mi hai ancora risposto, però fino in fondo alla domanda di Goffredo Lombardo, che è un uomo che io ho amato moltissimo perché mi aveva affidato tutta la sua library, per i DVD, ho avuto occasione di incontrarlo molte volte, ma come l'hai vissuto quell'uomo? Così rigoroso, così quasi superbo nella sua... anche intransigenza, però con grande generosità, se pensiamo che lui stava fallendo per il gatto pardo, quindi intendo dire credeva nel cinema e credeva in quello che faceva. Goffredo Lombardo è stato un produttore eroico, noi dei produttori eroici ne abbiamo avuti prima. Oggi qualcuno di serio deve salvarsi in qualche modo, ma non c'è più quella produzione di una volta. Il vecchio Rizzoli è stato un grande produttore. Lombardo è stato un uomo coraggioso che amava veramente il cinema, veniva da una famiglia di produttori, quindi il suo ufficio era una cosa incredibile, mai vista una scrivania fatta ad esse? Era ad esse lunga, da laggiù a là. Però aveva una sedia con le rotelle e andava da una parte e dall'altra a prendere un documento e l'altro. Era piena di premi, copioni, cose, con la sua fedele segretaria Cesarina. Un uomo con la montatura d'oro, era un gran signore. Però era un uomo che stava per fallire per il gatto parro, quindi stava per andare per aria, però ci teneva a fare un grande film, a fare un bel film. E alla fine però sono quei film che hanno fatto grande il cinema italiano, perché abbiamo avuto degli uomini virtuosi e Goffredo Lombardo insieme a qualche un altro è stato un uomo veramente virtuoso, quindi non posso che ricordarlo bene e parlarne bene. Con me poi fu molto generoso, noi abbiamo avuto a che fare due volte, viaggio con papà e troppo forte. Era sempre molto affettuoso e molto signorile nei miei confronti, molto. Stai pensando al tuo prossimo film? Ancora no, mi devo riposare adesso. Però, allora, diciamo a chi avrà la fortuna di vedere questa no... e di sentire soprattutto questa nostra chiacchierata, questa... non ho capito esattamente, dovresti spiegarmela meglio? Cosa vai a fare negli Stati Uniti? Ma adesso che... Non ti schernire, eh? No, adesso che... ho faticato tanto questi ultimi due anni, tanto, perché ho fatto la Scenerentola in Mondovisione in diretta da Torino, stavo tre mesi quasi. e... per prepararla, andare in diretta in Mondovisione. Poi, eh... documentario su... di me che è stato fatto da Gianni Eferzetri, documentario che ho fatto su Sordi, il... il libro che ho scritto, La casa è sopra i portici, la scrittura del... sotto una buona stella. Cioè, sono tutte cose che veramente butterebbero giù un... un toro. Io ho resistito, adesso però mi prendo un momento di pausa e vado negli Stati Uniti, visto che mi hanno... così... dato il privilegio di insegnare un po' di commedia italiana all'Università di Bloomington, nell'Indiana. Quindi andrò là qualche giorno, qualche giorno, qualche settimana e... entrerò in una realtà diversa che mi farà bene. Stacco un po' qua, incontro un mondo nuovo, chissà, che poi non... non possa venire qualche idea confrontandomi là con una realtà completamente diversa. Chi lo sa. E sei molto contento di questo... Assolutamente sì. ...di questa opportunità. quindi come vedi anche la comicità italiana è comicità, ma insomma un autore, un regista, un interprete, un artista che diventa internazionale ma nell'insegnamento, non solo nella recitazione. Beh, siccome... È molto buono questo. Sì, perché là molti ragazzi... Quella è una università che conta 50.000 studenti, 40.000, non lo so, nemmeno io sono tantissimi. Molti di loro studiano italiano e studiano cinema italiano. Sono loro che hanno chiesto al professore di invitarmi. Professor Vitti. Io ci vado con molto piacere e quindi staremo a vedere. Poi il fatto che hanno visto anche l'interpretazione della grande bellezza, anche questo ha fatto ah, ma lui fa anche film drammatici, no, questo è un è un azzardo di Sorrentino nel chiamare Verdun che però se l'è cavata bene. Tant'è che hai preso anche un premio. Beh, ho preso un premio in Italia come Nasto d'Argento come il miglior attore non protagonista per la grande bellezza. Quindi. Eh. Io ti ringrazio Carlo veramente tanto per la tua disposizione. Ma ne facciamo ancora? Vediamo se trovo un altro film per cui. Dobbiamo trovare un altro film, è nascosto, sicuramente qualche chiacchierata. per riuscire a strapparti queste, diciamo, confidenze, queste segretezze, se si possono chiamare, del dietro le quinte. Grazie. io ricordo tutto perché sono un uomo che non esiste, che vive. Io ogni cosa la vivo in maniera molto intensa e io mi ricordo tutto. Ancora oggi mi ricordo tutto e questa è la mia forza. È stata anche quella la forza di scrivere quel libro, La casa sopra i portici. Io mi sono reso conto e mi sono ricordato delle cose incredibili. però l'ho vissuto talmente bene in maniera così profonda che poi alla fine per me sono indelebili fino a quando Dio mi darà la lucidità rimangono dentro di me. Grazie. Grazie. La casa è piena di luce, entra luce da tutte le parti quindi è il contrario di dove viveva, no? Sordi. Sì. Sì, è diversa ma più che altro è una casa piena di passioni a differenza sua che non c'era neanche una fotografia io invece qua c'è tutte le mie passioni musicali però vedi c'è anche Alberto Sordi Sì. C'è Troisi, c'è David Lynch, c'è Lou Reed, c'è David Silvia, c'è Crosby Stile, David Crosby, Graham Nash, Stephen Stile, Jeff Beck, Joe Bonamassa, chi c'è? Fellini, Mary Strip, Kurosawa, chi è questo? Hopper, Tennis Hopper, la Pitt Townsend. Ho una curiosità, che film ha fatto Goffredo Lombardo in questa vicenda? Cioè siete andati da Goffredo Lombardo poi è arrivato Caminito. Chi è il produttore del film? Il produttore del film? Chi è stato? Quello che ci ha messo veramente i soldi secondo me è stato Goffredo Lombardo. Gli altri hanno fatto i produttori esecutivi. D'accordo? Noi abbiamo anche oggi, ogni tanto si dice prodotto da, però poi vai a capire ma chi ha messo i soldi? E capisci sempre che è la distribuzione che mette i soldi. Quindi sono dei produttori che diventano esecutivi in qualche modo. cioè amministrano quello che dà la distribuzione. Il vero produttore fu Goffredo Lombardo. Sergio Leone, vendette me. Poi alla fine Lombardo fu un gran signore mi disse perdone non posso darle 20 milioni. Io gli dissi la ringrazio. Perché quel maledetto dova io lo faceva testo per Sergio Leone. Io di tutto la ringrazio. Lui mi disse moltiplicato 4. Io dico grazie, buono. Che la ringrazio. E il minimo. Ecco, fu un gran signore. Lui era un signore. Quando disse moltiplicato 4 fu un gran signore. Gli disse grazie. Lui disse ma rimelita. Grazie. Ero una persona straordinaria Goffredo Lombardo. Assolutamente. Dica, ma quando San Leone che ci frega di Leone? Tanto loro prendono i soldi da me. E dico grazie. Però un altro film insieme lo faremo. Lo faremo, lo faremo. Infatti troppo forte lo portai a Lombardo. Ecco, io volevo arrivare a troppo forte perché lì succede il contrario. Sei tu il regista. Sì. Sei tu uno degli sceneggiatori l'idea probabilmente tua e sei tu l'interprete e porti dentro Sordi. No, non è che porto dentro Sordi. Ci siamo trovati a fare un secondo film insieme. Ma se io la devo dire tutta io scrissi quel copione non per Alberto Sordi io lo scrissi per Leopoldo Trieste. Questo nessuno lo sa. In troppo forte la parte del... poi è diventato quell'avvocato là che Sordi volle fare. Un po' bipolare un po' strano un po' completamente matto. Io l'avevo scritto per Leopoldo Trieste quando a un certo punto a 15 giorni dall'inizio delle riprese vengo chiamato adesso non posso aspettare i dettagli e mi viene detto questo ruolo lo devi fare Sordi. E dico io è scritta la parte per Sordi. Dico non è contemplato è che ci sputi sopra un film no, non ci sputo solo per carità ma io l'ho pensato per Leopoldo Trieste dico mi viene un film in un certo modo con Sordi mi viene una farsa facciamo la farsa però Sordi deve fare questo film ma perché Sordi perché Sordi deve fare questo film io questa cosa che Sordi doveva fare questo film non l'ho mai capita. Ma hai chiesto? Eh? Hai chiesto? No, non ho chiesto ho immaginato. Forse era lui che voleva proprio lavorare con te? No era lui forse che in qualche modo doveva forse il produttore anziché Deopoldo Trieste avrebbe avuto molto più piacere che ci fosse stato Alberto Sordi per motivi di incasso per motivi di richiamo e tutto quanto e forse c'erano delle cose da loro non lo so però questa questa entrata a gamba tesa che Sordi doveva fare quel film però io mi ricordo che tentai di chiamare Leopoldo Trieste per dire mi dispiace le cose ma non mi risposto al telefono perché l'aveva saputo mi dispiacque tanto perché io capisco Trieste e Trieste sordi e sordi però quel film l'avevo scritto per Leopoldo Trieste e poi fu ricambiato tutto perché il film slittò entrò Sonego e rientrò Leone le cose che appoggiava l'ingresso di Sordi e a quel punto il film ha preso un'altra fisionomia di grande successo comunque sì fu un grande successo comunque però non era esattamente il film che io avevo pensato se tu mi chiedi sei contento di troppo forte io ti dico sono contento di alcune mie performance in troppo forte ma non sono contento del film perché il film l'avevo concepito in un altro modo non ci doveva essere sordi ma no perché non mi piacciono sordi non l'avevo pensato per sordi tutto qua fu un mistero questo sai Carlo che io stare qui fino a domani perché in realtà tu racconti sono cose molto importanti io credo che sia necessaria una memoria di quello che sono state la telerializzazione dei film il pensiero dei film adesso ci stai raccontando cose assolutamente inedite che probabilmente nessuno sa ma che fa capire anche il patimento magari di un regista di un autore quando pensa qualcosa e poi la deve cambiare perché un produttore impone una cosa piuttosto una persona un attore piuttosto che un altro piuttosto che un indirizzo piuttosto che un altro per esempio in Troppo Forte ci fu una cosa che un giorno preoccupò anche Sergio Leone cioè che Sordi stava sempre di più facendo la voce di Oliver Hardy in Quell'Avvocato io non sapevo più che film stavo facendo non doveva essere così doveva essere come il personaggio come quei tanti Soltroni che ha fatto Sordi normalmente nella vita non doveva essere così caricato ma vedere Sordi con quel cappelletto con quell'occhio mi prese certe volte non dico però un moto di leggera malinconia perché secondo me un grande attore non aveva bisogno di arrivare a fare un personaggio così grottesco un grande attore fa la sua parte da Soltroni e basta la risata deve prendere uguale se sei bravo non c'è bisogno di mettere il cappelletto e parlare come Oliver Hardy era quasi una paura di non far ridere io la presi così una paura di non far ridere e allora caricava caricava molto e certe volte facevo veramente molta molta difficoltà a stare di dietro nei nostri duetti perché non doveva rispondere in quel modo quindi quindi il film secondo me è venuto qualcosa di molto ibrido quando ti dico che vivi me lo ricorderò per alcuni miei momenti io me lo ricordo so per esempio i titoli di testa col flipper quello è veramente un grande titolo di testa l'andata via con la motocicletta quando spacco la scopa lo scopino dalla strada quello pure fa molto ridere e quando c'è il mio monologo della paluta del Caimano là pure sono quei personaggi un po' mitomani che a me vengono molto bene venivano molto bene però non ricordo esattamente una grande scena da me sordi che posso dire ah sono contento no perché nonostante tutto mi spiace dirlo però non non l'avevo pensato per lui ma tu l'hai amato molto sordi io gli ho voluto bene perché ho scoperto in sordi due cose importanti innanzitutto a dispetto di quello che dice la gente perché la gente veramente dice sempre la voce del popolo quando incomincia a parlare se dice se dice se dice sempre tante cazzate non è vero Vox Populi Vox Dei non è vero niente questa avarizia di sordi è una delle più grandi sciocchezze che siano mai state dette sordi il silenzio ha fatto tanta di quella beneficenza che la gente neanche lo sa io lo sono venuto a sapere privatamente da persone che ne hanno usufruito sordi ha fatto veramente del bene per tanti per tante persone ma tanto ma veramente tanto eppure non si è mai sentito solo che sordi non pagava il caffè sordi non pagava il cornetto sordi non mi ha pagato la birra sordi non mi ha pagato sordi in tirchio quando venne per la prima volta a casa mia a cena lui portò una pianta di orchidee meravigliosa che oggi è diventata enorme sta nel terrazzo di mia moglie è ancora enorme non muore mai si espande sempre di più anzi qualche figlietto è stato preso è stato la pianta dei sordi ancora c'è stiamo parlando del 1983 probabilmente l'anno dopo in viaggio con papà si era uno che aveva pochi rapporti con il prossimo lui vedeva soltanto 4-5 amici questo gli si può però quello fa parte del carattere se uno è fatto così vedeva Piero Piccioni Sonego Amidei perché da quando morì la sorella Savina che era una sorella alla quale lui era molto attaccato lui non non fece più feste non feste poi insomma invitava sempre 15-20 persone non di più però dalla morte della sorella lui è entrato come in lutto quindi quella casa non ha più vissuto niente e lui si è dato una regolata grande cose fuori con la gente in televisione il sabato sera nei film però in casa regnava proprio il ricorre più estremo il ricorre più estremo però io devo dire anche la verità io ho sentito una persona che mi ha veramente voluto bene ma molto quindi era reciproco io assolutamente come il mio personaggio è reciproco io gli ho ridato tutta l'amicizia e anche sono stato un privilegiato dai insomma alla fine ho fatto un film con un con il forse il più grande attore di commedia italiano che abbiamo avuto insieme con Totò secondo me è stato lui forse perché lui era anche una maschera io penso che Tognazzi sia stato un grandissimo attore Gasman pure ma sta sordi però era anche una maschera quindi aveva un qualcosa in più aveva un qualcosa in più quindi aver fatto due film anche se nel secondo è entrato così aver lavorato con lui è una bellissima cosa e continuo a rimanere nel mio ricordo ecco lui vedi la mano appoggiata come quando ti dice facciamo pace ti disse in grosso modo in grosso modo è così sì 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 io non ho mai detto di essere l'erede di Sordi non mi sono mai azzardato a dirlo e non lo dirò mai perché non c'entro niente Sordi ha raccontato benissimo un'epoca io cerco di raccontare a modo mio un'altra però i nostri caratteri sono molto differenti però Sordi è Sordi insomma non hai eredi le maschere però anche tu racconti racconti a modo tuo lasciamolo dire ai critici lasciamolo dire al pubblico io non lo posso dire Carlo noi stiamo facendo una chiacchierata sai che io non sono una giornalista quindi non era proprio una chiacchierata tra noi per far capire a chi vedrà il DVD quindi il film nel DVD di un viaggio con papà che possa sapere qualcosa in più ma tu sei sempre molto straordinario quando racconti le cose sai Carlo cioè riesci a trasferirci quello che tu hai provato in quei momenti ecco perché io tu non mi hai ancora risposto però fino in fondo alla domanda di Goffredo Lombardo che è un uomo che io ho amato moltissimo perché mi aveva affidato tutta la sua library per i DVD ho avuto occasione di incontrarlo molte volte ma come l'hai vissuto quell'uomo così rigoroso così quasi superbo nella nella sua anche in transigenza però con grande generosità se pensiamo che lui stava fallendo per il gatto pardo quindi intendo dire credeva nel cinema e credeva in quello che faceva Goffredo Lombardo è stato un produttore eroico noi dei produttori eroici ne abbiamo avuti prima oggi qualcuno di serio deve salvarsi in qualche modo ma non c'è più quella produzione di una volta il vecchio Rizzoli è stato un grande produttore Lombardo è stato un uomo coraggioso che amava veramente il cinema veniva da una famiglia di produttori quindi il suo ufficio era una cosa incredibile mai vista una scrivania fatta ad esse era ad esse lunga da laggiù a là però aveva una sedia con le rotelle e andava da una parte e dall'altra prende un documento e l'altro era piena di premi copioni cose con la sua fedele segretaria cesarina un uomo con la montatura d'oro era un gran signore però era un uomo insomma che si hai detto giusto stava per fallire per il gatto parlo quindi stava per andare per aria però ci teneva a fare un grande film a fare un bel film e alla fine però vedi sono quei film che hanno fatto grande il cinema italiano perché abbiamo avuto degli uomini virtuosi e Goffredo Lombardo insieme a qualche un altro è stato un uomo veramente virtuoso quindi non posso che ricordarlo bene e parlarne bene con me poi fu molto generoso noi abbiamo avuto a che fare due volte viaggio con papà e troppo forte era sempre molto affettuoso e molto signorile nei miei confronti molto stai pensando al tuo prossimo film ancora no mi devo riposare adesso però allora diciamo a chi avrà la fortuna di vedere questa e di sentire soprattutto questa nostra chiacchierata questa non ho capito esattamente dovresti spiegarmela meglio cosa vai a fare negli Stati Uniti ma adesso che non ti schernire no adesso che ho faticato tanto questi ultimi due anni tanto perché ho fatto la scena rentola in mondo visione in diretta da Torino sono stato tre mesi quasi per prepararla andare in diretta in mondo visione poi documentario di me che è stato fatto da Gianni Ferzetri documentario che ho fatto su Sordi il libro che ho scritto La casa sopra i portici la scrittura del Sotto una buona stella sono tutte cose che veramente butterebbero giù un toro io ho resistito adesso però mi prendo un momento di pausa e vado negli Stati Uniti visto che mi hanno così dato il privilegio di insegnare un po' di commedia italiana all'università di Bloomington nell'Indiana quindi andrò là qualche giorno qualche giorno qualche settimana e entrerò in una realtà diversa che mi farà bene stacco un po' qua incontro un mondo nuovo chissà che poi non non possa venire qualche idea confrontandomi là con una realtà completamente diversa chi lo sa sei molto contento di questo assolutamente di questa opportunità quindi come vedi anche la comicità italiana comicità ma insomma un autore un regista un interprete un artista che diventa internazionale ma nell'insegnamento non solo nella recitazione beh siccome è molto buono sì perché là molti ragazzi è una università che conta 50.000 studenti 40.000 non lo so nemmeno io sono tantissimi molti di loro studiano italiano e studiano cinema italiano sono loro che hanno chiesto al professore di di invitarmi professor Vitti io ci vado con molto piacere e quindi staremo a vedere poi il fatto che hanno visto anche l'interpretazione della grande bellezza anche questo ha fatto ah ma lui fa anche film drammatici no questo è un è un azzardo di Sorrentino nel chiamare Verduna che però se l'è cavata bene tant'è che hai preso anche un premio beh ho preso un premio in Italia come Nasto d'Argento come il miglior attore non protagonista per la grande bellezza quindi io ti ringrazio Carlo veramente tanto per la tua disponibilità ma ne facciamo ancora vediamo se trovo un altro film dobbiamo un altro film è nascosto sicuramente qualche chiacchierata per riuscire a strapparti queste diciamo confidenze queste segretezze se si possono chiamare del dietro le quinte grazie io ricordo tutto perché so un uomo che non esiste che vive io ogni cosa la vivo in maniera molto intensa e io mi ricordo tutto ancora oggi mi ricordo tutto questa è la mia forza è stata anche quella la forza di scrivere quel libro la casa sopra i portici io mi sono reso conto e mi sono ricordato delle cose incredibili però l'ho vissuto talmente bene in maniera così profonda che poi alla fine per me sono indelebili fino a quando Dio mi darà la lucidità rimangono dentro di me grazie 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 grazie